questa macchina era un capolavoro di design in questo sportellone c'era tutta quanta la parte diciamo di guida di questa macchina il conducente apriva lo sportello e usciva davanti pensate un'idea così semplice genialmente tradotta in questi meccanismi di snodo non mi è stata più ripetuta da nessuno di questi imbecilli dei carrucchieri che si mettono a fare questi stilini e fruetti forgetti e ora è un malappanzato sinistro io comprerei a costa di vendermi le scarpe